Grandi vittorie per le italiane in Champions League. Il Napoli batte 2-0 il Villareale, creando tantissimo e giocando un gran calcio, fatto di velocità, tecnica, ma soprattutto tantissima delizione. Il primo gol viene segnato da Amsic al quindicesimo, mentre al diciassettesimo il Pocio Lavezzi si procura un rigore, segnato dall'infallibile Cavani. L'Inter di Ranieri ricca di idee e con tanta voglia di fare domina il primo tempo, andando sul 2-0 con Lucia al sesto minuto e con Pazzini al ventitresimo. Nel secondo tempo si fa recuperare dal CSKA Mosca, ma i Nerazzurri non ci stanno ed esattamente dopo un minuto dal gol del pareggio Zarate sigla la rete che dà la vittoria all'Inter.